Architetto Dominiani, ormai una notizia diffusa dopo i dati del 10 dicembre della protezione civile, l'area di Capocolonna è a rischio per l'erosione della costa. Sì, diciamo che questa emergenza, che ha avuto comunque un impatto diretto anche sulla costa, ma soprattutto è servita ad accendere le luci su Capocolonna, perché la situazione delle frane sul promontorio sono diffuse e sono in atto da tempo. Dopo l'emergenza del 21 e 22 novembre c'è stata un'attenzione particolare anche del Ministero ai beni culturali, che infatti ha mandato un sopralluogo, è venuta qui la direttrice generale per la protezione dei beni storici e artistici e abbiamo fatto un sopralluogo insieme a lei, insieme a Protezione Civile Nazionale, insieme alla Protezione Civile Regionale e ad altri uffici della Regione Calabria, oltre che a dipartimenti di studio dell'Università della Calabria. In questa occasione, infatti, la Protezione Civile Regionale ha poi fatto un'indagine con un drone e hanno fatto le riprese di tutta la costa. Sono dati che abbiamo condiviso insieme alla sottosegretaria Enrico ieri e abbiamo condiviso queste immagini che effettivamente sono preoccupanti, più preoccupanti ancora di quello che si rileva nell'andare a fare le visite di persona. In tutto questo, il fatto che c'è l'estrazione del metano in mare è un segnale su cui bisogna riflettere? Guardi, su questo nessuno esperto ci dà risposte precise, né io ho competenze specifiche per fare un'affermazione di questo genere. So che Eni sta facendo da anni un'importante attività di monitoraggio, però che ci sia un collegamento diretto, io non ne ho le competenze, né lo troviamo scritto da nessuna parte. Certo è che c'è in atto sia un fenomeno di subsidenza, che è un fenomeno di erosione costiero, a cui bisogna trovare rimedio più in fretta possibile. C'è stato un sopralluogo anche della Regione Calabria, pare che ci sia pronto un piano per Capocolonna, ma di fatto c'è qualcosa di concreto? Sì, allora il sopralluogo è quello di cui le dicevo prima, che abbiamo fatto tutti gli enti insieme. Nel frattempo il settore lavori pubblici della Regione Calabria, che aveva già a disposizione un finanziamento per la protezione della costa, sta disponendo in sommo urgenza un primo progetto proprio di salvaguardia immediato, che non sarà quello risolutivo, ma che comunque comincia un'operazione di messa in sicurezza sulla costa. E noi abbiamo appuntamento con la sottosegretaria Orrico, ma questo ve lo spiegherà meglio l'assessore, già per la prossima settimana, per capire se questo progetto a che punto è, ma è già iniziato.